100 rana abbiamo nella corsia 3 Alessandra Creazzo con il tempo di 1.15 e 37 miglior tempo della serie vediamo una serie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla vedrata Alessandra Creazzo, 35.13, buonissimo il parziale. Vediamo se risolviamo questo problema del ritorno di Alessandra. Dai, dai, sembra decisa. Decisa, decisa a chiudere e abbassare il tempo. Seconda la Di Santo in basso delle schermi. Dai, 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 ha un po' rallentato Alessandra, dai. Cerchiamo di abbassare questo tempo di 1.15. 1.15.34, è mancato ritorno. Purtroppo non riesce a ritornare bene, va bene al primo 50, si perde al secondo. 35 il passaggio, 40 e rientro.